La verità è che i mutanti esistono. E sono in mezzo a noi. Dobbiamo capire chi sono e soprattutto quali sono i loro poteri. Un cambiamento è in atto. Lei è un uomo timorato di Dio, senatore. E quelli che noi temiamo... Magneto crede che ci sarà una guerra fra i mutanti e il resto dell'umanità. Saranno i soli che potranno salvarci. Se nessuno riuscirà a fermarli, il futuro dell'umanità è segnato. Tu sei un mutante. Il mondo è pieno di persone che ti odiano e ti temono. E tu perdi il tuo tempo a proteggerli. Sei dalla parte giusta. Ho fatto io la prima bossa. Ma è tutto quello che so. Potrebbe sterminare tutta New York. Logan, aiutaci. Combatti insieme a noi. Ti proteggo io. Siamo noi il futuro, non loro. Intervieni tu. Non siamo quello che credete. Non tutti noi. Qui è l'unico. Puoi essere. Chi è l'unico. A direzione. Qui è l'unico.